Con Stefano Mammarella come testimonial si sono aperti ufficialmente ad Alba Triatica le finali scudetto giovanili di calcio a 5. Tutto in tre giorni, dal 22 al 24 maggio, per designare i campioni nazionali dei giovani di questo sport che sta man mano calamitando davvero l'attenzione nazionale. Da nord a sud le squadre che parteciperanno e che si affronteranno nelle categorie giovanissime, allievi e juniores, sui campi del Pala San Nicolò e Pala Acquaviva di Teramo e quello di Martinsicuro. Spero che sia una bellissima organizzazione, a parte quando si parla di giovani è sempre tutto bello perché vedere ragazzini giovanissimi, allievi, juniores, juniores e femminili calcare i campi di futsal è sempre una cosa bella gioia vederli giocare. Spero, lo spero tanto, io da abruzzese dico che siamo pure qui in Abruzzo ma in tutta Italia speriamo che crescono in fretta questi ragazzi perché sono l'emblema dell'Italia, sono loro che ci aiutano a crescere e il nostro futuro sono loro. Siamo inorgogliti ancora una volta della scelta della divisione che è ricaduta su di noi perché è a dimostrazione che come dicevo prima l'intero comitato, la regione, c'è voglia di fare calcio a 5, ci crediamo ed è una disciplina in continua scesa soprattutto nella nostra regione. Grazie a tutti.